Mi è arrivata adesso un'agenzia che ci dice che è attivo da oggi il conto corrente Regione Lombardia Sostegno Emergenza Coronavirus. C'è un numero di IBAN che è quello che voi vedete sul vostro schermo, lo potete segnare perché è lungo, ma vi conviene segnarlo perché è quello che dobbiamo fare tutti in questo momento, darlo una mano. Servirà questo numero per raccogliere fondi per sostenere le nostre strutture sanitarie, i medici, gli infermieri, il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia. Lo comunica il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, lo rimetteremo sugli schermi in modo che potete prenderne nota e fare la vostra parte. Segnalo che per grazia di Dio in questo paese un sacco di gente si sta comportando bene, un sacco di gente ha capito che questa è l'occasione per diventare molto più solidali, molto più generosi. Ci sono molte iniziative di privati che donano fondi cospicui, c'è una grande banca italiana che ha messo un sacco di soldi nel sistema sanitario. Insomma io ho la sensazione che in ogni caso questo disastro ci sta a far ragionare un po' sui nostri modelli di vita e di sviluppo e questo a mio parere sarà un gran bene.